Le notizie di venerdì 1 marzo, bentrovati. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 28, una donna, 42 anni di Senigallia, da tempo in cura presso il reparto di psichiatria dell'ospedale, ha chiamato il reparto informandolo dell'intento di farla finita. La dottoressa, che ha ricevuto la telefonata, ha allertato immediatamente i carabinieri militari, si sono subito attivati nella ricerca attraverso il controllo del segnale del telefono cellulare, hanno rintracciato la donna e l'hanno portata in salvo. Il progetto Impresiamo di Confcommercio Imprese per l'Italia-Provincia di Ancona fa tappa a Senigallia, con l'appuntamento fissato per lunedì 4 marzo alle 14.30 nei locali di Confcommercio. È invitato all'iniziativa chiunque voglia fare impresa o è già nel campo e vuole sviluppare al meglio la propria attività. La Confartigianato e la sicurezza nel centro storico. Vediamo. Parte proprio questa sera Noi Sicuri un progetto di Confartigianato, coadiuvato dall'azione di un partner della sicurezza che è La Vedetta. Un progetto che nasce con l'intento di aumentare protezione alle attività del centro storico di Senigallia, contrastando il fenomeno di furti e rapine. È un progetto di piantonamento dinamico, quindi con la presenza di una guardia particolare giurata all'interno del perimetro del centro storico, dedicata alle attività che in questa maniera hanno deciso di aderire al nostro progetto. Quindi farà visita in tutte le imprese aderenti e servirà per aumentare quello che è il livello di sicurezza all'interno del centro storico. Non è un servizio che si sovrapporrà chiaramente a quello delle forze dell'ordine che stanno peraltro facendo un ottimo lavoro, ma servirà semplicemente per coadiuvarle nell'azione di aumento di quella che è il limite e di quella che è l'attenzione al problema. Abbiamo visto che Senigallia negli ultimi mesi purtroppo ha subito un incremento di azioni in qualche maniera legate alla microcriminalità e quindi abbiamo inteso dare come confrattigianato una risposta alle imprese per renderle più tranquille e per favorire anche la fruizione del nostro bellissimo centro storico. Nel mese di marzo riparte la campagna informativa sulle importanti novità introdotte dal nuovo servizio di raccolta rifiuti in vigore su tutto il territorio comunale dal 1 febbraio. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 4 marzo alle 21 al centro sociale adriatico di Marzocca. Adesso invece parliamo di arte terapia. Si terrà domani 2 marzo alle 17 presso l'auditorium San Rocco l'incontro dedicato all'arte terapia uno strumento indirizzato a bambini e ragazzi speciali e non per far conoscere loro e sperimentare in prima persona le principali tecniche artistiche ed espressive. L'aspetto preponderante primario è quello dello stare insieme per meglio esprimere le proprie emozioni appunto l'elemento empatico attraverso il segno grafico che sono tutti aspetti alquanto pregnanti sia per uno speciale non verbale e semi verbale quali sono molti autistici ormai adolescenti ma anche per i verbali i cosiddetti i vingetti più piccoli che lo sono solo in quanto oramai è di sapere comune che l'intervento inclusivo con determinate tecniche sociosanitarie ha contribuito al sorgere della presenza della paola anche per coloro che non sono soltanto affetti a questa disabilità intellettiva. Arteterapia quindi tra parola e l'immaginario fantastico insito nel bambino senza alcun distingo al quale si vuole dare l'opportunità di meglio esprimere il proprio io. Stagione teatrale 2012-2013 organizzata dal comune di Senigallia in collaborazione con Amat e in teatro la compagnia Flamenc Viv presenterà al pubblico domani sera alle 21 al teatro La Fenice la nuova produzione Battito, tre anime, una pulsione unica. Adesso parliamo di sport. Domani sera al Palasport di Via Campo Boario di Senigallia alle 21 le nere azzurre della Dea Gourmet, la squadra femminile dell'US Pallavolo affronteranno la polisportiva Candia, match valevole per all'incorsa alla Serie C. Radio cronaca in diretta su Radio Velluto a partire dalle 21. Questa è l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Samuele Pasquini per la collaborazione e l'appuntamento è per lunedì prossimo.